Il cinema realizzato dai bambini per lanciare un messaggio universale e questa la mission di Castellabate Film Festival, un progetto ideato e promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Castellabate, grazie al quale la cinematografia e l'audiovisivo entrano a far parte della didattica scolastica. La manifestazione che coinvolge gli alunni dell'Istituto Comprensivo Castellabate prevede la realizzazione di brevi video spot e cortometraggi su temi di interesse sociale. Gli alunni impegnati nel progetto saranno diretti dal regista Gianni Petrizzo in collaborazione con la dirigente scolastica Gina Muriello e i docenti dell'Istituto. Gli alunni nella prima fase dei laboratori dovranno cimentarsi con la scrittura della sceneggiatura e successivamente diventare interpreti delle loro storie. I film verranno girati su tutto il territorio di Castellabate che tornerà ad essere set cinematografico per l'occasione. I cortometraggi realizzati, 16 in tutto, saranno successivamente proiettati e presentati in concorso. Una giuria di esperti decreterà vincitori premiati nel corso dell'evento di chiusura del festival previsto per il prossimo 26 maggio in Piazza Lucia, Santa Maria. È un progetto che nasce in sinergia con la dirigente, la professoressa Gina Muriello, con la quale abbiamo intavolato già da diversi anni questa volontà di fare un progetto che coinvolgesse tutti e si concludesse in una grande festa finale nella piazza di Santa Maria di Castellabate. Il progetto si articolerà in varie giornate grazie alla collaborazione di Gianni Petrizzo, il quale farà da regista all'interno del progetto e consentirà ai bambini di vivere ciò che realmente viene, quindi toccheranno con mano quello che è la produzione di un film, di uno spot o di un cortometraggio. Quindi ognuno di loro darà il proprio contributo e mentre i più piccoli si cimenteranno nella creazione di un breve spot, i più grandi invece cercheranno di fare qualcosa di più elaborato e quindi creeranno dei cortometraggi. Interessanti sono anche i temi trattati a partire dall'ambiente, l'amicizia, il web come risorsa e l'inclusione. Sì, assolutamente. Insomma, insieme alla scuola si è pensato proprio comunque di garantire un momento educativo per tutti loro.